La presentazione del progetto HD 4K della direzione strategie tecnologiche RAI in collaborazione con Eutelsat Roma, Napoli, Venezia e un crescendo rossignano di Lina Werte Müller che è qui con noi, la saluto, buongiorno, grazie di essere qua. Lina Werte Müller non si ferma mai e sperimenta l'altissima tecnologia, l'altissima definizione che è l'ultra HD 4K che i nostri ospiti ora ci illustreranno e lo fa nella maniera che le è più congeniale, in un documentario, un viaggio in queste tre grandi città d'arte, in un crescendo rossignano. Tornando, ma poi ce lo racconterò a lei, anche a un vecchio amore, quello per la musica classica, sarà Rossini e sua moglie a condurre il telespettatore in questo viaggio. I protagonisti sono d'eccezione perché ci sono Elio che sarà Rossini, ci dispiace che non si acquista mattina, e Giuliana Desio che sarà sua moglie, sua moglie Isabella Colbran. Presento i nostri ospiti, graditi ospiti, il padrone di casa, l'ingegnere Luigi Rocchi, direttore strategie tecnologiche RAI, buongiorno. Marcus Fritz, direttore sviluppo commerciale e marketing Eutelsat, Renato Farina, amministratore delegato Eutelsat Italia. Solo poche parole di saluto e di introduzione e poi vedremo il film Roma-Napoli-Venezia in un crescendo rossignano. Ma il microfono va ora all'ingegnere Luigi Rocchi. Grazie. Allora ci siamo raccomandati tutti nella sintesi, però non posso non fare un saluto e un ringraziamento forte. First of all, to Mr. Fritz. I have the honor to know him. I have been collaborating with him for a long time, since 2004. So it's an honor for us to put in evidence this application of technology and art together. Probably only the first one of a long series, I hope. Vorrei ringraziare il dottor Fiore Spino, il dottoressa Galvagni, Luigi De Siervo, il dottoressa Garruba, Sinisi per la radio, Cecatto e in particolare i due centri di produzione di Roma e di Torino, Pietro Grignani. Infatti vedrete che molta parte della musica è svolta proprio dall'orchestra sinfonica della RAI. Quindi potremmo dire che è un prodotto fatto in casa, volendo scherzare un momento. Un grande ringraziamento ovviamente all'INA che è stato già detto ha una passione speciale per la tecnologia e di questo ce ne avvantaggiamo. Speriamo ci fa un regalo a tutti con quest'opera. Ovviamente ringrazio tutti i colleghi di strategie tecnologiche del centro di cerche, appunto Valerio Santoro che fino a ieri sera, anzi forse anche questa notte ha fatto qualcosa diciamo su questo filmato insieme appunto dottoressa Poli, Inger Perrazzino, Muratori, Gio Alberico è qui presente. Un grosso ringraziamento a YF Film di Tozzi, poi probabilmente sarà lui anche racconterà qualcosina probabilmente insieme a Valerio Ruiz che hanno fatto un grosso lavoro. Attacco velocemente dicendo che il direttore generale della RAI, Gubitosi, proprio giovedì scorso nel presentare qui in questa sala la chiusura, diciamo l'approvazione del bilancio ha parlato di un trinomio forte, cioè ha parlato di un'offerta sempre migliore, ha parlato di un bilancio in equilibrio, ha parlato di una tecnologia all'avanguardia ecco proprio mi sono scritta questa parola, tecnologia all'avanguardia, ecco qui proprio questo noi vediamo la tecnologia all'avanguardia, quindi strategia tecnologica, questa missione, quella di generare questa esperienza in RAI, di acquisire questa esperienza e ne abbiamo fatta molta, sono convinto che l'INA poi dirà quante difficoltà sono state incontrate e i limiti tecnologici che abbiamo affrontato e questo rapporto con Eutelsat, proprio immediatamente per dare la parola ai colleghi di Eutelsat che invece è fortissimo perché insieme a loro lanciamo, abbiamo l'alta definizione appunto via satellite, abbiamo ormai una collaborazione di oltre dieci anni di una serie di attività e di realizzazioni dove portiamo la cultura tecnologica in tutta Italia, nei capoluoghi di regione, nei capoluoghi di provincia, sono alcuni anni che questo facciamo presso gli installatori, gli amministratori di condominio. C'è un concorso per gli installatori che si concluderà a ottobre, che diciamo genera e rafforza questa collaborazione con la RAI a cui noi particolarmente teniamo. Il 3D, il 4K sono le tecnologie che noi stiamo adoperando, quindi è troppo ghiotta questa occasione per non ricordare che un altro filmato in 3D, questo è in 4K, in altissima definizione, un altro filmato in 3D, andrà in onda venerdì prossimo dopo la Via Crucis all'interno di TV7, quindi un filmato che riguarda Firenze, Inferno Paradiso ed è assolutamente, come dire, la storia di Firenze raccontata e vista attraverso le immagini splendide in 3D della città di Firenze, appunto, con questo criterio. Concludo questo mio, come dire, brevissimo passaggio perché la domanda sarà ma cos'è questo 4K, questo Sarchiapone, che cos'è? Ecco, il 4K lo si vede nella slide, ecco, ci permette di fare un confronto fra gli schermi di dimensioni standard, ecco, ipotizziamo che questo sia uno schermo di dimensioni standard, se manteniamo la stessa definizione e passiamo in alta definizione abbiamo uno schermo di questa dimensione, cioè moltiplichiamo per 4, se passiamo in 4K lo schermo diventa di queste dimensioni, dunque questo ci permette di avere uno schermo di dimensioni di una parete in casa nostra senza cambiare casa, cioè mantenendo la distanza di visione tra la nostra poltrona e lo schermo televisivo aumentando la definizione, aumentando gli schermi, cosa appunto che siamo abituati a fare. Ecco, in questa ottica proprio Eutelsat sta investendo particolarmente proprio sullo sviluppo dell'HD e del 4K, quindi credo che la parola possa andare proprio a me. Potremmo quindi dare la parola a Mr. Marcus Fritz, direttore sviluppo commerciale e marketing Eutelsat proprio con questa cosa, cioè l'impegno di Eutelsat nella sperimentazione di questa nuova tecnologia. Yeah, good morning, ladies and gentlemen. First, let me also give a great thank you to Mrs. Lina Wettmüller and her team for the, let's say, outstanding production. And another thank you to Rai, and especially the team of Ingeniore Rocchi, who I know for many years, as he already outlined, and we are very proud and honored that we always find Rai as one of the first partners to drive innovation for the next generation television. As Mr. Rocchi already said, we started with high definition, we had projects on 3D, and now we are very honored to have the first Rai Ultra HD TV content on our satellites. We are going to use this piece of art, which represents a piece of art of production, and an editorial piece of art, which represents a piece of art of technology, and ultimately a piece of art of telecommunication by broadcasting it across Europe, Middle East, and Africa on our satellites. We are going to use that and broadcast it over our Hotbird demo channel in Ultra HD, so in 4K, which is available then for hundreds of millions of homes, technology-wise, across this region. In addition, we are on it, and hopefully can use the content also to even broadcast it globally. We have plans to have Ultra HD TV channels all around our fleet, so we will have something in Singapore, and if we are allowed by Rai, we would like even to use that content and for the additional demo channel. So we will take the content from here and, let's say, bring it into the world. It will help us on one side to explain to the viewers, not only in Italy, we are currently serving over 8 million viewers, we are a Hotbird in Italy, but also we are serving hundreds of millions of homes across the world, and it will help us to really showcase the, let's say, outstanding picture quality of Ultra HD, and it will help us also to win more audience for the new technology, and it will help us through the tests and through the communication to win everybody along the value chain to embrace the new technology and to participate from the extra benefits that the new content is going to bring. So not only the technology, but also the audience will enjoy a much, much better picture quality, something that has not been here before. So thank you very much for that opportunity, and an extra thank you for the cooperation. E noi ringraziamo lei, Mr. Fritz, e diamo il microfono a Renato Farina, amministratore delegato Etoer Sat Italia, anche per sapere a che punto è l'Italia. Grazie, buongiorno a tutti, è a buon punto l'Italia. Nel senso che comunque confermo la grande collaborazione che noi abbiamo avuto con la RAI. Sono più di dieci anni Luigi che collaboriamo, io mi ricordo ancora nel 1994 quando fu trasmesso il primo canale diffusivo via satellite su Hotbird 1 in analogico con la RAI. Ecco, questo è, a quell'epoca abbiamo aperto una nuova frontiera. Ecco, sono trent'anni di collaborazione con la RAI, sono onorato, contentissimo di poter continuare a collaborare con la RAI, perché stiamo aprendo anche nuove frontiere insieme. Ecco, volevo in qualche modo dire che Etoer Sat guarda sempre all'innovazione. Come abbiamo visto, siamo partiti con l'analogico, siamo andati sul digitale. Nel 2005 abbiamo affrontato una nuova sfida, quella dell'HD. Siamo stati i primi a trasmettere su satellite un canale in HD e oggi l'HD è una realtà, è qualcosa che tutti hanno nelle proprie case. Nel 2007 abbiamo lanciato il primo canale in 3D e anche 3D, oggi è una realtà. Nel 2013 abbiamo lanciato il primo canale in Ultra HD, 4K. Questo perché appunto è una nuova frontiera, la nuova frontiera della televisione. Come ha ben detto Luigi, noi abbiamo bisogno, abbiamo la possibilità di avere grandi schermi a casa, non possiamo cambiare le nostre case, di conseguenza abbiamo bisogno di poterci avvicinare allo schermo e questa tecnologia ci permette di farlo e sicuramente con questa possibilità di vedere la televisione, con questa nuova immersività abbiamo una percezione, una visione, una vivibilità del contenuto in modo straordinario e completamente diverso. Noi come Eutesat stiamo accanto ai nostri partners aiutandoli, studiando insieme le nuove tecnologie. Per esempio, anche in questa tecnologia c'è tutto un passaggio da quello che è la VC, MP4, HIVC. Non entro nei dettagli tecnici, però insieme ai nostri partners noi stiamo seguendo un'evoluzione tecnologica per offrire sempre più il prodotto di qualità. Il fatto di aver collaborato con la RAI su questo grande contenuto, grande filmato, girato da una grandissima regista come Lina Wettmüller, che io faccio i miei complimenti, con due grandi attori, Giuliana Desio ed Elio, non possiamo che essere onorati di aprire questa nuova frontiera della televisione insieme alla RAI e insieme a questo grande coprodotto insieme. Questo contenuto sarà disponibile nei nostri satelliti, sicuramente noi abbiamo il canale sperimentale in 4K su Hotbird, insieme alla RAI lo metteremo in onda, poi avremo tutta una serie di passaggi dove metteremo a disposizione tutta la nostra flotta, abbiamo più di 36 satelliti che coprono integralmente il mondo e questo avrà un processo divulgativo di come EUTESA, di come la RAI stanno crescendo e stanno offrendo. Hotbird ha già 8 milioni di case coperte che ricevono la televisione attraverso i satelliti e credo che stiamo crescendo sempre più insieme a TVSAT ovviamente e io ringrazio tutti, ringrazio Lina Wettmüller e ringrazio la RAI. Grazie a tutti. Grazie a tutti.